Sì, ma andiamo a far sta spesa o no? Aspetta, Andrea, questo è un coppio importante. Possiamo andare anche al Conad, non è che... Aspetta, è un coppio importante, non è che... Capito, devo prender l'acqua e latte Gianluca, non è che devo fare... Aspetta, aspetta... Sì, coppio, sì, sì! Andiamo a una coppia, non ti incazzare. Lair, tra virgolette, perché dentro c'è l'air. Geniale. I don't wanna die for him to miss me. Bella, bro. Ciao, hai portato la roba? Eccolo qua. Mamma mia, ste silver. No, non sono le silver, sono le Air Max 97 però White Menta. No, queste sono le silver. No, le Air Max 97 però White Menta. E questa è la marca. Silver, dai, sono le silver queste. E vabbè. Chiamiamole silver, vabbè. Chiamale te come ti pare, tanto. Devo comprare io, devi comprare te. No, devi comprare le te, però... Sì, vabbè. Questo invece è il discorso di Off-White. Sì, sì. Il coso che sembrano rubate. No, questo qui è praticamente il segno distintivo delle Off-White. C'hanno questo tag, che lo mettono sempre. No, perché a me è mai un Hyperbest in pratica. Un Hybeast. Un Hyperbest uguale. Il discorso dell'hype, mi hanno detto, poi non sono a sega io. Che in pratica questo lo rubano, cioè rubano la scarpa e così sembra che l'hanno rubata e sono forti, ma fa figo. Ah, no, non è proprio così, però va bene. Scusa, questo non era di taccheggio. No. Vabbè, però è di moda. Fa figo, era quello. Di moda di sicuro. Sì, sì, sì. Quello degli Hyperbest. E, insomma, quanto vuoi? 650. Ah, ci sta. Io lo trovo adesso una pagina di Instagram a 40 euro, 650, prezzo onestissimo. No, sono 650 euro. Dai, fra. Te lo giuro. Dai, bro. Dai, man. Su. Dai, facciamo gli scemi, su. Sono false queste. Guarda, no, stessere. Come false queste vedi? Ma sì, c'è la colla, si vede. Perché la pagina Instagram mi ha detto, in pratica ci sono questi, quei difetti di fabbrica che escono, ma sono originali, i materiali sono quelli. Ma c'è la colla qua. Sì, la colla ci sarà anche, però. Sono made in Vietnam. Bro, fra. Sì. Man, dai. Dai, bro. Queste vedi sono fatti in Vietnam, ma sono originali, prese sul sito di Off-White. Dai, quindi 650 euro. Mhm. Dai, la pagina Instagram me le faceva Man, cos'era, 35 euro. Dai, fra. Facciamo 35. Ma posso scendere a 600, magari, però. Dai, scemo, dai, fra. Man. Sì, man. Quindi queste valgono 600 euro, ma sai una cosa? Mhm. Qua se valgono 600 euro. Ma si scappa. Sono fatti. Sono fatti giù. Lacci scritto, tra virgolette, perché sono dei lacci. Sì, è fattutamente geniale. Devo diventare un designer. Devo diventare un designer anch'io. La mia creatività sta nascendo in me. Quello è un telefono. Quello, nello specifico, è anche un iPhone. È bellissimo adesso. Quello, quello è un comodino. Andrì. Allora? Come stai? Bene, bene te. Sì, alla grande, direi. Ma non è vero che va alla grande, dai. Ma perché? C'è le scarpe ortopediche. Come fa a andare bene, dai. Ma che dici? Invece sono nuove, ultimo modello. Ho capito, non lo potevi dire, ma sono quelle della postura, ste scarpe. No, Andrì. Le ho pagate 400 euro, ste scarpe. 400 euro ste scarpe? Sì. Allora, mi sa che da domani inizio a fare farmacista. Allora. Questo è difficile però. Questo è un tavolo. Ora è un bel tavolo. Poi. Andre, ma... Oh, Gianluca. Aspetta un attimo. Tu entri così senza avvertire. Tu non puoi entrare in una casa così. Senza dirmelo. Cioè, questa è una casa artistica. Poi. Cioè, te mi hai scritto Gianluca in un post-it? E me l'hai appiccinato nella fronte? Io sono un designer, te sei Gianluca. Ah. Ma cosa c'è scritto sul muro? Muro. Scatola. Sedia. No, sono un designer. A parte che ora metto gli occhiali perché tutto il giorno sono qua. Adesso ho visto la luce, sai. Poi dove scrive luce sulla lampadina. Ok. Andrì, sul bicchiere. Andrì, secondo me non stai bene? C'è la febbre? Sono un artista, non c'ho la febbre. Fammi sentire il polso. Ah, che palle. Polso. Eh sì. E quindi? È arte Gianluca, cioè se non capisci l'arte. Sì, lo so Andre. Secondo me l'hai. Ti scrivo felpa sulla felpa? No. Pantaloni su pantaloni. No, 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 vado via, guarda. Guarda che è una roba artistica. Sì, ti lascio lì. Ciao. Buonasera. E poi l'ho un divano. Porta. Miglia. Oh, grande frate. Oh, ciao. Bella bro, com'è? Io a te te ho già rivisto. A me? Giobbino arancione, no? Ma dici a me, man? No. Tu sei quello della roba, no? Sì. Vai, fa vedere. Ecco. Questa è la box logo di Supreme. 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 Ma c'è, tu stai vendendo la roba, non sai neanche cosa stai vendendo. Cosa è quella che c'è la FedEx, no? Sì. La posta. FedEx. Però va bene. Life are best. Hai visto. Senti, va di moda sta roba. Questa va di moda, sì. Allora, perfetto, posto. Va bene. Tanto io ho visto, c'è un negozio nella mia città, la vende a 150. Io ho visto te, hai messo 650. Sei seguita la virgola dopo il 6, proprio. Cazzo. No. Ma che stai dicendo? Prezzo è quello lì. 65 euro, allora. No, 650. Dai, fra. Ma la vende a 150 nella mia città. Ma che c'entra? Ma quelle lì non sono uguali a queste qui, sono diverse, sono repliche. Ma come stai dicendo, fra. Sì. E dove l'hai presa te questa? Sul sito di Supreme. Supreme non ha un sito. No, non ha un sito. No, non ha un sito. No, non ha un sito. A pare si dice Supreme, con sto Supreme adesso lo stai mettendo in testa. Si dice Supreme. Quanto sta? Dai. Quanto sta? Sei 50, allora. No, posso stavolerti qualcosa se sei 30. 6,30 euro. No, no. No, ascolta, aspetta. 630 euro ora perché... Ma stai mettendo in giro. Ti sei venuto a prenderla tipo... Ma stai scherzando o cosa? Ma che ti sto scherzando? Non so le telecamere, dai raga. Su, dai. Dov'è scherza a parte versione Hyperbest? Dai, su. Fra. Sì, va bene, ascolta. Cioè, sta roba vale 6,50? 650 euro? Ma la sai una cosa? La so, purtroppo. Quello lì che se te la prendi scappi è gratis. No. No. Telefono un attimo, scusami. C'è un Restork dell'Efresto. Off trattino guite. Ah no, Restork. Restork. Delle Presto. Ora. Off guite, sì. Sì, 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 sì. Non mi torno. Comunque era vera quella cosa. Quale cosa? Questa. Oh! Questa. 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 Questa.